Questa è la mia sensazione. Sì, perché Draghi è il meglio possibile cui potevamo ambire in questo momento, ma temo che nemmeno lui abbia la bacchetta magica. La questione dei vaccini è una questione che prescinde a questo punto non soltanto dall'influenza dei governi nazionali, ma mi par di capire anche della Commissione europea. Siamo in attesa e non mi pare che si possa fare granché d'altro intanto se non attrezzare la logistica. Io però, Tiziana, vorrei dire una cosa.